Carica a Mister Inzaghi la squadra, inizia ora la partita. Primo pallone giocato proprio dai rossoneri, Modic. Prova il Padova sempre con Sadio, ha subito un colpo, Pacifico deve rientrare, la palla in avanti per Sadio, Sadio la conclusione, il gol. Tutto nasce però, dal fatto che Pacifico andando a contrasto ha subito un colpo da Sadio. Modic su Piccinocchi, Piccinocchi per Pedone, Pedone su Mastalli, Mastalli la palla dentro per Fabro, 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 Fabro messo giù, questo è rigore, questo è rigore, questo è rigore però, non ha preso il pallone, ha preso solo Fabro. E parte il contropiede del Padova, attenzione, situazioni di parità numerica, ancora la conclusione, il gol del 2-0. Palla dentro, e trova il gol Luca Iotti, per il 2-1, proviamo a rapirla, adesso crediamoci, dovevamo trovarlo in fretta questo gol, l'abbiamo trovato in fretta. Provato l'intervento in anticipo Modic, buono intervento di Iotti, può provare a ripartire ancora il Milan. La palla in avanti, Pinato, Pinato, la porta è vuota, Pinato, per il 2-2, per il 2-2, Marco Pinato e ora proviamo a vincerla, ora 10 minuti proviamo a vincerla. Ora 10 minuti, dobbiamo provare a vincerla. Quindi la mischia in aria, Piccinocchi, la palla è alta, e c'è, e c'è Simic, e c'è Simic, e c'è il 3-2, e c'è Simic, ed è l'angolo, l'angolo, l'angolo di Simic. 3-2, la rivoltiamo questa partita. Va a dare un po' di pressione, la pressione è portata anche da Mastalli, la palla larga, non deve andare Mastalli, lo dicono anche i compagni, lo dice Mister Inzaghi, attenzione la palla in aria, la conclusione. Il gol del pareggio del Padova, che arriva nel finale. Siamo 20 secondi oltre, ultima azione che viene lasciata al Padova, quando siamo ormai 30 secondi oltre, la palla deviata sulla traversa, resta lì, finisce in angolo, termina qua la partita con tanto di brivido finale.